Il primo capitolo dell'iter giudiziario sul crack e utelia si chiude senza sconti. Dopo sei ore di Camera di Consiglio, il Collegio dei Giudici, presieduto da Mauro Bilancetti, ha emesso le proprie sentenze verso gli imputati. Samuele Landi, che oggi vive a Dubai, è stato condannato a nove anni, cinque per Angelo Isacco, tre anni e quattro mesi per Sauro, figlio di Raimondo. Condanne a quattro anni per Giuseppe Maranghi, Roberto Rondoni e Maurizio Bartolomei Corsi. Quattro anni e otto mesi per Walter Giacomini e due anni e quattro mesi per Andrea Iorio. Unico assolto dai giudici è Leonardo Pizzichi, verso il quale era stato chiesto un anno. Il Tribunale in primo grado ha dunque riconosciuto la fondatezza dell'inchiesta condotta dalla Procura di Arezzo, andando oltre la stessa richiesta del Procuratore Generale. Sono state inoltre rifiutate le maxi richieste di provvisionale presentate dalle parti civili. Il PM Roberto Rossi aveva chiesto la condanna a otto anni per Samuele Landi, quattro anni e sei mesi per Angelo Isacco, due anni per Sauro. Resta da vedere se le parti, come prevedibile, vorranno fare appello. Alla lettura del verdetto erano presenti in aula alcuni ex lavoratori Agile giunti da Roma.